Un giro di vite tardivo che ha provocato più di un disagio tra i cittadini e messo in cattiva luce la professione infermieristica. Due aspetti che i presidenti dei collegi Ipasvi di Bari e della BAT, Saverio Andreula e Michele Ragnatela, evidenziano in un corposo dossier inviato al presidente della regione Puglia e assessore alla sanità Michele Emiliano. Il giro di vite tardivo al quale fanno riferimento i presidenti dei due enti ordinistici è quello messo in atto dalle ASL di Bari e della BAT e dalle aziende sanitarie come il Policlinico sui prelievi di sangue effettuati a domicilio. Procedura non prevista se non in casi determinati e autorizzati, ma che era ormai diventata una consuetudine tacitamente accettata da anni. L'inchiesta avviata dalla procura di Bari sul fenomeno dei prelievi di sangue a domicilio effettuati da infermieri del centro di emofilia del Policlinico da una parte ha fatto emergere il fenomeno con tanto di tariffario a nero, dall'altra ha scatenato la corsa da parte delle direzioni generali delle ASL a regolamentare quanto era stato tollerato per anni. Lo scrivono espressamente i due presidenti dell'IPASVI nel dossier inviato ad Emiliano e per conoscenza anche al direttore del Dipartimento Salute della Regione Giancarlo Ruscitti. Prima delle disposizioni restrittive è stato tollerato il lavoro sommerso degli infermieri che per anni hanno affollato gli sportelli di accettazione delle strutture pubbliche per consegnare i prelievi ematici effettuati a domicilio. Adesso, dopo l'esplosione del caso Policlinico, si corre in maniera affannosa ai ripari. A pagarne le conseguenze da una parte sono i cittadini e dall'altra, in termini di immagine, gli infermieri che al netto dell'esito delle indagini che coinvolgono quelli del centro di emofilia del Policlinico non vanno criminalizzati, sostengono i due presidenti dei collegi EPASVI. Dai quali parte l'invito al presidente Emiliano ad aprire un confronto per scrivere nuove regole per la professione consentendo al cittadino di scegliere il professionista sanitario che possa effettuare quella prestazione così come c'è libertà di scegliere un medico per farsi curare.